In questa tredicesima edizione delle giornate fai d'autunno proponiamo a Pesaro due edifici meno consueti, quindi la sede della Camera di Commercio, dove ci troviamo oggi, e la Caserma del Monte. Sono due edifici di epoca razionalista, costruiti negli anni da 30 e 40, ma non sono importanti solamente perché ci danno lo spunto di parlare di questa architettura, di una stagione dei concorsi in cui la maggior parte delle opere pubbliche venivano realizzate tramite bandi. Ci danno anche l'occasione di parlare di quello che avviene all'interno di questi luoghi. Questo è un importante luogo per la nostra società, per i lavoratori, per le aziende, mentre la Caserma del Monte, un luogo che custodisce importanti momenti della nostra storia, con il 28esimo reggimento Pavia, ma che attualmente riveste un compito molto nuovo e importante, che è quello di comunicazione nei teatri operativi. È l'unico reparto in Italia che si occupa di questo e ha l'importante compito di preparare le popolazioni nei teatri operativi al consenso verso le forti multinazionali che vanno per azioni di pace.